Lei dice dunque che mi deve fare la multa? Sì! E che la multa si fa che ha commesso un'ingiustizia? Esatto! Ma non abbiamo forse detto che io non esistendo le strade non posso aver parcheggiato in seconda fila? Sì, è così! Quindi lei multandomi commetterebbe un'ingiustizia? Esatto! E non è appunto questo un torto? Sì! E che cos'altro è la multa se non la punizione di un torto? Nient'altro! E quindi? La devo pagare io! Quanto è? 50 se paga subito! Io amo la verità!